Spaccio a domicilio, bastava ordinare per vedersi consegnare la droga, lo scambio avveniva velocemente sulla strada o in luoghi isolati, pochi minuti dopo aver inoltrato la richiesta con una semplice telefonata. In manetta è finito un marocchino di 29 anni e lo hanno arrestato agli agenti della polizia stradale di Lecco. Un giro d'affari da migliaia di euro solo durante l'ultimo lockdown aveva spacciato almeno 6.000 dosi di cocaina piazzando a chiamata oltre 3 kg di polvere bianca per un giro d'affari di più di 200.000 euro. Il 29enne effettuava consegne a domicilio nel giro di pochi minuti in tutti i paesi dell'Abrianza, bastava chiamarlo sul cellulare, concordare la quantità e il prezzo della droga e accordarsi su dove ritirare lo stupefacente. Il marocchino era già finito in manetta per lo stesso motivo a gennaio, quando era stato fermato dalla postrada di Bellano a Brivio sull'SP342. Sottoposto all'obbligo di firma in attesa del processo era tornato a spacciare consegnando, in alcuni casi, anche porta a porta per soddisfare le esigenze dei tossicodipendenti, nonostante le limitazioni per la pandemia. Da qui l'ordinanza di custodia catelare in carcere durante la retata, i poliziotti della stradale, che hanno eseguito diverse perquisizioni nelle chiese e nella bergamasca, hanno anche trovato 2.000 euro in contanti, probabile provento di spaccio, e sequestrato l'auto che il pusher utilizzava per le consegne, oltre ai telefoni cellulari utilizzati per contattare i numerosi clienti. Ora l'uomo si trova in carcere a Pescarenico.